I suoi occhi della finale di Champions contro la Juve, fissi, sicuri, presagio di vittoria. Sceva in quegli occhi, nella faccia da bambino che lo fa meravigliare di ogni giocata, di ogni gol, nella gioia assoluta del suo sorriso quando i compagni lo abbracciano, come se vivesse per questo. Scevchenko, posizione regolare, salta lupatelli, Scevchenko, Andri Scevchenko, esplode San Siro. Palla in aria per Scevchenko che la fa rimbalzare e segna anche in cloacchi Andri Scevchenko. Scevchenko, prova il sinistro, prese, Scevchenko con il scapolavoro. Non c'è più aggettivi perché agli ultimi 20 metri ovviamente se lo fa tirare, lui adesso è sinistro. Scevchenko in aria di rigore, fa fuori tutti e in spaccata, segna un gol straordinario, quel fenomeno di Andri Scevchenko. Scevchenko in aria di rigore, al centro di Pirlo, il rimate gol, Scevchenko. Marca il secondo del Milan, piccando il valore. Scevchenko in aria di rigore di Ambrosini, prova a girare, Scevchenko al limite. Non si muove nemmeno Peruzzi, Andri Scevchenko. Scevchenko in aria di rigore di Ambrosini, prova a girare. Supercoppa europea decisa dopo appena 10 minuti, il merito è sempre suo, inserimento perfetto e colpo di testa micidiale, fino in fondo ricosta e crossa al centro, Shevchenko anticipa tutti Andri Shevchenko e batte Vittor Bahia, il re di Coppa Andri Shevchenko San Siro ospita una classica del calcio europeo e il protagonista non può che essere lui Corsa a regale, un tocco e gol, sul match il marchio di Sheva Prova ad andare in profondità, posizione regolare di Shevchenko, Shevchenko Andri, Shevchenko Puoi provare a fermarlo in maniere più o meno ortodossa, ma se ha cominciato a correre è praticamente impossibile contenerlo, vedere per credere, lo slalom speciale al Bari di Shevchenko immediatamente Shevchenko, sempre uno contro uno in profondità, va via Shevchenko, velozissimo punta l'uomo, Shevchenko, si avvicina a Prentino, sempre in gol, 4, incredibile Shevchenko è super gol, è partito da metà campo, la velocità, la possibilità di questo giocatore è veramente straordinario